L'autorità portuale di Gioia Tauro ha in previsione la realizzazione di diversi interventi sulle infrastrutture di propria competenza. Oltre Gioia dunque i porti di Crotone e Corigliano. Il tutto è inserito nel bilancio approvato dal Ministero delle Infrastrutture. Tra le pieghe del documento finanziario sono diverse le misure finanziarie destinate a sostenere la realizzazione di opere infrastrutturali che definiscono la strategia adottata dall'autorità portuale guidata dal commissario straordinario Andrea Agostinelli. Su Gioia Tauro si conferma la volontà di sostenere una maggiore competitività nel mercato del transhipment e l'avvio dell'intermodalità grazie all'avvenuta partenza del gateway ferroviario. L'approvazione del bilancio trova coincidenza temporale con le attività di confronto che vedono impegnato l'ente con le istituzioni locali e le parti sociali per il rilancio dei porti di Corigliano Calabro e di Crotone. Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo di questi scali verso i quali è in corso l'adeguamento funzionale dei relativi piani regolatori portuali al fine di indirizzare un maggiore sviluppo delle loro attività. Tra le opere previste per il porto di Crotone è in fase di completamento di progettazione il rifiorimento della mantellata e la ricostruzione del muro foraneo a sostegno dell'operatività del vecchio porto per un valore economico di 2 milioni di euro. Mentre è stato programmato il prolungamento del muro foraneo 7 milioni di euro per il quale si attende il parere del ministero dell'ambiente. A sostegno dello sviluppo del porto di Corigliano Calabro è stata programmata la creazione della banchina crocieristica 8 milioni di euro per garantire allo scalo un maggiore sviluppo di settore. Sono stati inoltre affidati lavori che partiranno a breve di manutenzione dell'impianto di illuminazione e torri faro per un valore di 600 mila euro.